Ciao Ugo, come accordi ti ho preparato il tutorial per generare e modificare le pagine in nuovo regolamento privacy.com quindi avrai l'opportunità tramite un piccolo software che ho inserito all'interno del tuo sito internet di gestire al meglio il tuo sito come vedi siamo nella home page di nuovo regolamento privacy.com e per facilitarti l'ingresso al back end io ti ho già praticamente inserito due pulsanti qua in basso a destra della pagina visibili praticamente solo da computer uno serve per loggarsi e uno serve per sloggarsi ti ho aggiunto il pulsante per sloggarsi perché nel caso che tu stai modificando delle pagine non dal tuo ufficio ma da un altro ufficio ricordati sempre di sloggarti per evitare che qualcun altro poi entri nel back end perché se il computer non viene riavviato o il browser non viene no, il computer non viene riavviato praticamente il browser mantiene aperto il back end di wordpress quindi ricordati sempre che se usi un altro computer o sei in un ufficio di un cliente o da un'altra parte e usi un computer che non è il tuo di sloggarti sempre prima di andare via in più ti ho messo naturalmente il pulsante con la chiavetta per loggarti quindi non devi schiacciare nessun indirizzo per loggarti ma devi semplicemente premere sul pulsante della chiavetta una volta premuto sul pulsante per loggarti ti troverai davanti praticamente la schermata di ingresso del back end di wordpress dove dovrai inserire praticamente il tuo nuovo utente e la tua password io ti ho già praticamente generato nuovo utente e password sono gecchelin e generale 2018 ok una volta inserite nome utente e password clicchiamo su login come vedi siamo entrati nel back end di wordpress la prima cosa che ti troverai davanti è la modifica dei tuoi dati personali quindi della tua pagina profilo però alla fine questa pagina non si vede da nessuna parte è praticamente nascosta all'interno del sito e questi dati sono nel database del sito e quindi è anche sinceramente inutile modificarla ci sono già dentro gli essenziali che sono nome e cognome la mail per il recupero della password e il nome utente come vedrai avrai un piccolo pannello una piccola barra laterale a sinistra con alcune funzioni e una barra superiore con altre funzioni in alto a destra infatti c'è un altro piccolo pannellino dove puoi sloggarti e ha la stessa funzione praticamente del lucchetto che io ti ho messo in home page ok? quindi poi schiacciando su esci fai ti praticamente esci, ti sloggi praticamente dal dal back end di wordpress e per entrare nuovamente avranno bisogno di username e password a sinistra abbiamo bacheca, media, pagine, utenti tu praticamente puoi vedere tutti gli utenti che sono all'interno del sito che nel nostro caso sono l'amministratore il webmaster della pagina e gecchilini che sei tu che è l'editore praticamente ho creato due ruoli differenti perché se io ti facevo come amministratore della pagina sulla barra laterale a sinistra ti sarebbero apparse tipo 7 milioni di funzioni funzioni che a te non servono e che potrebbero solamente confonderti le idee o magari modificare cose che possono danneggiare la pagina quindi per precauzione comunque ti ho creato un utente che ha la funzione di editore e come funzione di editore hai la possibilità praticamente di fare il lavoro che mi hai chiesto quindi generare pagine e modificare pagine esistenti o pagine generate andiamo su pagine clicchiamo tutte le pagine e in questo pannello praticamente ci sarà praticamente la lista di tutte le pagine presenti nel sito quindi di tutte le aziende che tu hai inserito più la pagina home che è la pagina iniziale clicchiamo praticamente adesso vediamo che noi adesso di azienda ne abbiamo solo una io ti consiglio di mantenere questa azienda a prova e utilizzarla per come punto di riferimento per generare le altre quindi duplichiamo noi non facciamo altro che duplicare la pagina a prova attraverso un pulsante che si chiama duplicate pagina che è questo quindi abbiamo modifica modifica pagina e duplicate pagina quindi duplichiamo la pagina e come vedi è apparsa un'altra pagina duplicata in bozza infatti wordpress dice pagina a prova copy bozza e con cosa hai fatta cioè elemento elemento è quel software che io ti ho inserito per modificare le pagine senza conoscere l'html piuttosto che il php piuttosto che altri linguaggi di programmazione web prima cosa che dobbiamo fare è quindi identificare la pagina che abbiamo duplicato quindi questa clicchiamo su modifica quindi il primo bottoncino a sinistra sotto il nome della pagina ed entriamo come primo step nella parte di configurazione della pagina non siamo ancora dentro elementor prima cosa che facciamo è modificare o inserire il nome dell'azienda quindi noi in questo caso metteremo azienda 3 no 2 semplicemente lo scriviamo in questa parte andiamo a modificare naturalmente il permalink quindi semplicemente modifica cancelliamo quello che c'è all'interno ok e clicchiamo ok automaticamente wordpress mi genera un permalink col nome dell'azienda esattamente come mi avevi chiesto copiamo il link e scusami copiamo il link e salviamolo magari dentro un documento word piuttosto che un notepad piuttosto che qualcos'altro questo praticamente è il link che servirà al cliente per andare nella sua pagina privacy se lo vuoi anche copiare dopo non è un problema comunque ci sono altri modi per pescarlo non solo questo però visto che l'hai appena generato l'ideale sarebbe copiarlo e incollarlo da un'altra parte altra cosa da modificare super importante in basso a destra è il vp floating menu option questo è il plug in che ti ho messo per creare per i due pulsantini di login e logout se io lo lascio su default è possibile che nella pagina del cliente si vedano i due bottoncini quindi non dobbiamo fare altro che cliccare su default menu sulla tendina e cliccare su disable una volta fatto questo possiamo tranquillamente pubblicare la pagina quindi cliccare sul pulsante pubblica questo serve praticamente per cambiargli lo stato da bozza a pubblicato fallo adesso che magari dopo ti dimentichi e non visualizzi la pagina fatto questo la pagina è pubblicata il permalink c'è clicchiamo su modifica con elementor ed entriamo nel software di cui ti avevo parlato aspettiamo che il wordpress carichi praticamente il software e visualizzi il template che c'è al suo interno lui praticamente mi ha copiato la pagina che io ho duplicato quindi mi ha duplicato il template e quindi praticamente visualizzo sulla sinistra un piccolo pannello di controllo e sulla destra la pagina e tutto il layout che noi adesso andremo a modificare elementor di base ha un sacco di funzioni un sacco di elementi che si possono inserire nella pagina ma quello che dobbiamo fare noi adesso è modificare quello che c'è già quello che abbiamo già creato e non aggiungere cose un giorno magari ti spiegherò anche ti potrai divertire creando una pagina di prova e lasciarla in bozza a creare magari una pagina con gli elementi che ci sono già pronti all'interno di elemento però comunque questo lasciamolo a parte e iniziamo a vedere come modificare il template che noi abbiamo già creato semplicemente clicchiamo sul iniziamo a modificare il logo quindi clicchiamo sull'immagine del logo e come vedi a sinistra apparirà tutte le proprietà di questa sezione questa sezione è una sezione immagine quindi avrà delle proprietà che riguardano l'immagine qua nella prima parte possiamo modificare l'immagine le dimensioni di dascalia link eccetera eccetera in questo caso l'immagine non ha nessun link se tu vuoi inserire praticamente il link che porta al sito dell'azienda lo puoi fare tramite il link a cliccando su url personalizzato e inserendo praticamente qua sotto il link adesso non ci serve quindi lasciamo su nessuno andiamo a modificare il logo adesso cancelliamo cliccando su cancella praticamente il logo esistente e clicchiamo su più per inserire un nuovo logo la prima cosa che devi fare è caricare file selezionare il file e vai a pescare praticamente nella cartella il logo dell'azienda che sicuramente ti dovranno passare ogni qualvolta che te generi ogni qualvolta che generi una pagina privacy per qualcuno quindi avrai una cartellina dell'azienda con il suo logo all'interno vai a selezionare il logo e fai apri in questo caso io non lo faccio perché l'ho già inserito ok quindi cliccando su apri il logo poi vabbè ho fatto lo stesso non importa me l'ha duplicato infatti me l'ha automaticamente rinominato con barretta 1 perché ce ne sono due comunque quindi mi ha inserito il logo nel database dei media di wordpress selezionato il logo inserisci media e il logo come per magia mi appare nella home page del nostro template cosa è successo qua perché il logo è così grande praticamente se tu guardi nelle proprietà c'è scritto dimensione dell'immagine pieno ok mi è andato a prendere lui praticamente mi inserisce il logo a dimensioni full io questo logo l'ho generato in dimensioni abbastanza grandi quindi non mi sono ricordato di ridurlo quindi me l'ha inserito in queste dimensioni gigantesche ma sicuramente quando ti passano dei loghi aziendali in png perché puoi inserire loghi in png e in jpg mi raccomando non inserire loghi in pdf o in altri formati saranno sicuramente più piccoli di questo comunque noi l'elementor è così bellino come software che addirittura tu puoi andare a cambiare la dimensione dell'immagine originale e magari mettergli un qualcosa di differente io in questo caso vado a selezionare medium 300x300 e lui mi ha ridotto l'immagine a 300x300 cosa comporta questa cosa non c'è scritto ma io te la dico comporta una riduzione dell'immagine dall'originale all'interno del database di wordpress se l'immagine piena ha una buona risoluzione facendo questo riduci la risoluzione dell'immagine può darsi che capita alcune volte che l'immagine si veda pixelata quindi non va a mantenere la qualità dell'immagine al 100% quindi l'ideale è sempre mantenere su pieno e avere un'immagine più piccola di quella che ho inserito io comunque problema risolto della grandezza del logo con il 300x300 tendina tendina abbiamo anche 150x150 medium large large pieno e personalizzato personalizzato io ho provato ma non funziona non so perché comunque sarà un problema del programma o può darsi che non funziona con questo tipo di immagine quindi devo verificare comunque per adesso non serve inserito il logo dopodiché andiamo a cambiare nome dell'immagine nome dell'azienda clicchiamo sulla quando io vado con il mouse sopra il nome dell'azienda apparirà praticamente questa pennina dentro questo quadratino blu a destra clicchiamo su questo infatti viene scritto modifica se ti guardi vedi modifica qua a sinistra c'è la possibilità dove c'è scritto titolo cambiare il nome dell'immagine in questo caso mettiamo globaltech io adesso scrivo così tanto per scrivere globaltech ho scritto giusto globatech no è globatech non è globaltech lo cancelliamo srl magari srl ok vedi che cambiando la scritta qua automaticamente il titolo è cambiato così facciamo per tutti i campi ok volendo tu puoi cambiare anche i titoli partita IVA clicco in parte partita IVA rea clicco in parte qua c'è rea sede legale qua abbiamo sede legale da cambiare qua abbiamo l'indirizzo ok cambiamo l'indirizzo se hanno praticamente una sede legale e un indirizzo una sede legale sola e non hanno sede operativa perché è tutto nello stesso luogo sai cosa fai? andiamo a cancellare praticamente la sede operativa cosa devo fare? vado su modifica tasto destro su modifica e faccio cancella modifica testo quindi tasto destro sempre sul quadratino cancella e mi è rimasta solamente la sede legale indirizzo mail indirizzo mail persone riferimento eccetera eccetera c'è un altro modo più semplice per modificare ancora più semplice io te lo sto dicendo tutti in modo che puoi vedere te come cosa fare come farlo puoi cliccare direttamente sul testo se io clicco direttamente sul testo io metto via pinco pallino 36 65 ok cliccando fuori lui memorizza quindi puoi modificarlo da qua e anche da qua io lo farei dal pannello di controllo così è anche ben visibile tutte le cose che puoi fare per esempio l'allineamento del testo la dimensione se vuoi inserire un link al testo qua puoi incollare l'url eccetera eccetera lascia stare dinamico eccetera eccetera tutte queste cose perché sono abbastanza complicate ok quindi tutti i testi si possono modificare così ok allora vediamo vediamo adesso come modificare praticamente inserire i pdf o i documenti da scaricare della privacy sai cosa facciamo adesso andiamo ad aprire un'altra scheda nel nostro browser scriviamo ancora il nome del sito nuovoregolamentoprivacy.com invia noi praticamente siamo vedi che tu aprendo un'altra pagina sempre nel nuovoregolamentoprivacy.com un'altra scheda nel browser lui ti mantiene aperta la sessione quindi tu sei ancora in questo caso sei ancora nel back end di wordpress infatti per questo che ti ho creato il pulsantino per uscire però magari non te ne rendi conto per vedi solo la barra superiore quindi clic pulsantino e fuori oppure da qua esci ok comunque torniamo a noi torniamo a noi entriamo nella nostra bacheca cliccando su nuovo senza cliccare scusa nuovo regolamento privacy e clicchiamo su bacheca quindi siamo nel nostro back end siamo di nuovo nel nostro back end noi abbiamo aperte adesso due schede una con l'elementor che sta aspettando i nostri link e due con la bacheca del wordpress andiamo nei media libreria vediamo tutta la nostra libreria dei media aggiungiamo nuovo media selezioniamo il nostro media io adesso vado a prendere vado a prendere un pdf che cosa vado a prendere io vado a prendere adesso magari un industria 4.0 vado a prendere la tua la tua privacy di là ok io sono industria 4.0 andiamo a prendere la tua privacy eccolo qua info informativa generale e scriviamo selezioniamo praticamente il documento che ci interessa che può essere un pdf oppure un docs e scriviamo apri e il wordpress te lo carica aspettiamo che carichi il file e una volta che è caricata l'informativa ok mi raccomando le informative nominale come si dice personalizzarle a seconda dell'azienda perché altrimenti ti trovi tutte informative cf informativa cioè tutte uguali e non va bene ok comunque una volta che ti è caricato il documento clicchi sul documento e a destra nel pannello a destra cliccando due volte sul nella casella url praticamente ti troverai il link che poi ti serve nell'elementor quindi copia il link torniamo qua chiudiamo che non ci serve torniamo nella scheda di elementor andiamo sull'informativa eccetera eccetera modifica modifica e anche qua modifica sono tutte uguali modifica quindi andiamo sulla prima incolliamo tasto allora incolliamo con il tasto destro il link andiamo al prossimo stesso procedimento andiamo nella scheda seleziona il file selezioniamo il documento apri me lo carica aspettiamo che finisce ok ha finito apriamo il documento prendiamo il link lo copiamo chiudiamo torniamo alla scheda di elementor qua abbiamo già selezionato questo incolliamo questo avrà un link questo avrà il suo link ok e non è finita qua in parte dove c'è l'informativa generale c'è anche l'immagine l'iconcina di pdf noi possiamo rendere cliccabile anche l'iconcina quindi clicchiamo su modifica l'immagine andiamo a mettere l'url personalizzato dove c'è il link a e inseriamo a sto punto il nostro link protezionati personali eccetera eccetera fatto tutto questo il pulsante verde aggiorna farà in modo che la pagina sia pronta e visibile ok finito questo possiamo tornare cliccando su questo menu a tendina alla nostra dashboard e andare su tutte le pagine per vedere la nostra azienda 2 eccola qua se vogliamo visualizzare la pagina un'anteprima della pagina noi praticamente andando con il mouse su azienda 2 c'è il tasto visualizza se noi clicchiamo sul tasto visualizza mi farà vedere la nuova pagina infatti se tu guardi normativa informativa generale generale pdf è cliccabile e mi farà apparire il documento in pdf quindi la pagina è pronta e funzionale ok io penso a una volta praticamente controllata la pagina possiamo già chiudere la la scheda della libreria perché non ci serve più abbiamo già caricato tutti i documenti tornare oppure no al nostro back end io uso il tasto questo qua sopra esci ok io penso che per questo piccolo tutorial è tutto spero di esserti stato utile ciao ugo buona serata